quindi andiamo in giù vai piano è in basso molto in basso così meglio va bene prof lampeggia vai piano vado davanti io vai davanti te vai davanti te dai che provo a guardarti mio maestro vai piano madonna è lento lento alam arriva attenzione facciamo vedere che traiettori dai attenzione 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 aspettiamo tutti attenzione 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 e 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 vai tranquillo e 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